ok sono rimasto da solo approfittando del sole ho messo in carica un po di cosina sistema wireless come potete vedere telecomando drone macbook iMac attaccato funzionante carichino gopro cassa bluetooth quanto stiamo producendo 17 volt 11 ampere batteria extra carica 14 volt notate nulla di particolare mi sono regalato finalmente un mppt che rende decisamente di più soprattutto in condizioni di bassa luce è un po mappamondo mi sembra avere un 50 pollici però funziona bene si c'è anche poi l'aggeggino da attaccargli qua nella porta con più piccolo e tenere a vista quello più piccolo e questo imboscarlo è il display piccolino riporta tutte le informazioni anche altre ma per ora va molto bene questo ok Grazie a tutti Grazie a tutti Buona giornata Buona giornata Buona giornata C'è già troppo casino Ma perché non viene già una bella grandinata che li caccia tutti a casa Il wifi forse prende Vediamo un po' se si riesce a navigare Uuuuuh che schifezza 0,85 megabit di download Uuuu upload a bestia 12 megabit Ah fazza Vabbè la paginetta di Osvaldino la apre Mamma mia l'ho pubblicato solo ieri ragazzi L'avete già visto 1260 volte Ah fede Ciao boss mi guardo sempre i tuoi video spettacolari Fede ho provato a chiamarti poco fa Mannaggia ma qua non piglia una mazza Eh vabbè ci riproverò Ma dai si sta aprendo un pochino Aiuto Sta arrivando di tutto È già arrivato e è andato via di tutto Eh qua ci sono i signorotti Tutti con le braccia dietro Oh mi Hanno disquisito fino adesso Sulle arcate di questo santuario Oh mi La mia fai Ah culli Ah le tutte Tutte sbagliate Tutte sbagliate E mi E il tet L'avria fai E mi Adesso hanno capito che loro potevano farlo 200 volte meglio Ah mi Io Ehi Ne facevo sette io Adesso andranno su qualche altra fortificazione a disquisire Oh Tutti questi arrivano dalla strada più forte Facile Nessuno di questi è arrivato da Lemia Ho parlato con un signore Che gironzolava attorno al camper Non è sceso Buongiorno Oh mi L'hai sette di Ford Eh già è ovvio Eh C'avevo quello con due ruote Quello con tre Quello con otto Quello con dieci Quello con venti Eh sì Un aeroplano Ford E vabbè comunque gli ho detto Arrivati da con dove Boh Oh No No da Lemia Ah da Lemia siete arrivati con ste macchine Eh Ah E scendete verso con dove mi sa dire dove si scende per con dove E noi arriviamo da con dove Ma se mi ha detto che arrivate da Lemia Eh no da con dove Non sapevo manco come era girato Che glielo dico io Arriva da con dove Perché non può arrivare da Lemia Eh però adesso da Lemia scendiamo Faccio cosa fate? Scendete da Lemia Guardi che brutta E' molto più brutta da con dove E' molto più brutta da con dove Che è un'autostrada Io gli auguro di non scendere da Da Lemia Perché finché messi com'erano Si sta un pelo aprendo Ma mi E' molto più brutta da Guarda guarda Eccolo là il Defender dei tedeschi ma ce n'è anche un altro credo vadano tutti all'alpeggio bravi bravi andate a mangiare del buon formaggio italiano dai apriti un pochino ti prego sono le 4 io ho leggerissima famina ho fatto un aperitivo con il pecorino sardo che mi hanno portato Stefano e Elisa dalla Sardegna giustamente buonissimo grazie ragazzi una favola poi ho alternato con una toma che ho preso in alpeggio l'altro giorno che sono andato a passeggio fino a dopo il lago di Monastero oltre i 2000 metri che spettacolo non so come si sta bene se se ne andassero via tutti ritorna la pace totale sono ormai le 19 qua si sono alternati motociclisti macchine gente che fa picnic il posto è bello ma il fatto che ci sia anche la strada più bella per arrivare fa sì che arrivi di tutto poi ragazzi lì che sono arrivati tipo un paio d'ore fa cani a cazzo ovunque e a uno sono già corso dietro perché si è messo a pisciare sulla mia gomma e già il primo porco è già partito poi minghia minghia chiama il cane tutto il giorno chiama il cane tutto il giorno chiama abbaglia 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 e già non ci siamo poi si sono messi a giocare a pallone la ciliegina sulla torta è stata adesso non ha attaccato la radio tutuzza tu tutuzza tu tutuzza tu ma io mi chiedo ma la gente ascolta solo sta musica di merda al di là che non vieni in questo posto e attacchi la radio perché c'è anche altra gente a cui magari non gliene frega un cazzo della tua merda di musica perché quella è merda non è musica al che non ci ho più visto perché io non sopporto la maleducazione e tantomeno la musica di merda anzi la merda e sono andato gentilmente a chiedergli se era il caso di tenere la musica accesa mi hanno guardato come se mai nessuno gli avesse fatto una richiesta del genere al che una ragazza mi fa ma se abbassiamo gli ho detto guarda abbassala pure basta che non la senta se l'ascolti solo tu va bene vengo a duemila metri apposta per non sentire rumori che non siano solo quelli della natura e se arrivano i tamarri come voi cioè non è possibile adesso sono spento ma vedo il tipo che lì già che era vanna con la radiolina staranno qua tutta la sera a far casino io non posso spostarmi tutte le volte che arrivano sti tamarri tutuzza tu guardate in che posto mi trovo cioè ma devo rinunciare io a un paradiso del genere a parte il santuario per dei tamarri maleducati no a un paradiso che è stato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.